Salve! Soprattutto Gisele aspetta che lui muore, cioè il protagonista muore! Non lo so! Ma ha detto il finale! E lo ammazza il suo miglior amico! Che cazzo ridi? Ma ha detto il finale? E tu ridi? Cioè non solo... No, no, è il suo miglior amico, è stato il padre in realtà ammazzarlo! Ma l'avevi capito, no? E questo si capisce proprio alla fine. Buona visione! Finalmente sta cominciando il film, tre ore di pubblicità, non si è po' più ognuno! Sì, scusi! Ma la fila F dov'è la fila F? Ma per cortesia... Qual è il mio posto? Sta cominciando il film! Ah no scusate, ho sbagliato sala! Ah è proprio la F! Addirittura la sala! Il genio, è arrivato il genio! Ah no no! Ho sbagliato proprio C! Ma se ne va! Ma se ne va! Ma se ne va! Ma se ne va! Basta! Basta! Basta con questi pop-corn nei cinque minuti! Tutto il tempo! E pure con questa Coca Cola che tiri! Che tiri! Che cosa tiri! Ma la sta rincorrendo? Sì Federico, si vede, la sta rincorrendo! Ma ha un coltello in mano! Sì! Si vede che ha un coltello in mano! Zitto! Che le persone si lamentano! Ma la vuole a coltellare? No! Si acciccarne la Nutella! Si deve fare il palino con la Nutella! Capito? Eeeh... L'ha ammazzata per la Nutella! Tu vuoi sposarmi? Lui le ha chiesto di sposarla! E lei ancora gliel'ha detto si! Sì! Secondo me non glielo dice si! Anche se lei ha la pancia un po' strana! Secondo me è incinta! Basta! 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 Va bene? Basta! Questi sottotitoli dal vivo! Questa spiegazione! Lo sento quello che dico! Non c'è bisogno che lei me lo viena a dire! Va bene? Basta! Bene! Accendiamo le luci! Basta! Basta! Ok! Adesso io chiamo la maschera e la faccio buttare fuori! Questo non è un film! Sì! Questo non è un film! Perché lei non può anche le conclusioni! È incinta! Non è incinta! Oh! Ma non l'ho capito! Basta! Basta! E mi ha dato fastidio! Con tutte queste cose! Va! Guardi c'è uno che mi dà fastidio tutto il tempo! E prima mangiava e poi parlava e poi doveva fare i sottotitoli! Parlava mentre c'era il film! Ma 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 come? Ma come? Si calmi! Si calmi! Non c'è bisogno di essere così nervoso! Che sembra la protagonista del film! Cioè! Incinta! Il film continua! Comunque questo film è stato pazzesco! Ti è piaciuto? Si! Appena si è capito che lui era il padre biologico! Proprio... Ma quale padre biologico? Il padre biologico è morto! Il figlio era adottato! Il padre biologico è qui scarlonavi!